Prepariamo dei tagliolini al ragù di triglie. Prepariamo un fondo di cottura con dell'olio, uno spicchio d'aglio e delle triglie precedentemente sfilettate. Appoggiamo il magic cooker e lasciamo insaporire a fiammata per circa 2 minuti. Trascorsi 2 minuti aggiungiamo i datterini, diamo una mescolata e aggiustiamo il sale. Appoggiamo il magic cooker e cuociamo a fiamma bassa per circa 10 minuti. Trascorsi 10 minuti spostiamo il magic cooker ed inseriamo 500 grammi di tagliolini di pasta fresca. A questo punto aggiungiamo 250 ml di brodetto precedentemente preparato con le triglie e aggiustiamo di sale. Ecco qui. Appoggiamo il magic cooker, cuociamo fiamma alta fino a che non può riesce il vapore, dopodiché abbassiamo la fiamma e aspettiamo 3 minuti di cottura indicata in confezione. Diamo una mescolata, ecco qua, sistemiamo i nostri tonnarelli, aggiungiamo un pochino di basilico e ultimiamo la cottura. I nostri tagliolini sono pronti e non ci resta che impiattare. Ed ecco qua i nostri tagliolini a ragù di triglie.